In cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Renzo Castagnini sembra esserci il centrocampista Samuele Damiani. Prima però bisognerà liberare uno slot e dunque cedere qualche pedina. Con le valigie in mano c'è il difensore Bubamarongo, ormai fuori dal progetto tecnico e proposto dalla dirigenza rosa nero alla Vibonese. Ma la trattativa, come riporta l'odierna edizione del giornale di Sicilia, sembra essere in stand-by e di conseguenza lo è anche l'arrivo del playmaker oggi in forza all'Empoli, nonostante ci sia già l'accordo tra le parti. Non è un segreto, infatti, che l'obiettivo del Palermo sia prima liberarsi di uno stipendio e poi metterne un altro a libro paga. Dunque, qualsiasi acquisto nel mercato di gennaio avverrà soltanto in caso di cessione. Si vedrà. Intanto, la squadra di Silvio Baldini si prepara a ritorno in campo dopo oltre un mese. Il prossimo weekend si giocherà la quarta giornata del girone di ritorno e i rosa-nero saranno protagonisti del Monday Night in casa del temibile Catanzaro, che in sede di mercato di riparazione si è già assicurato le prestazioni di un calciatore del calibro di Pietro Iemmello, segnale del fatto che i calabresi vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonista da qui alla fine del campionato. Scenderanno invece in campo domenica pomeriggio le altre due siciliane del girone C di Serie C, entrambe impegnate fuori casa alle 17.30. Il Catania di Francesco Baldini andrà a far visita alla capolista Bari, che ha chiuso il 2021 con la vittoria sul Potenza, mentre la CR Messina di Raciti, che ha salutato l'anno vecchio con un successo, proverà a fermare la Virtus Franca Villa, attualmente appaiata al Palermo in classifica con 33 punti. Insomma, è un weekend di fuoco quello che attende le siciliane. Tutte e tre dovranno lottare in trasferta, tutte e tre sono chiamate a far punti. inaugurare il 2022 con il piede giusto sarebbe un buon punto di partenza per il raggiungimento dei propri obiettivi.